Ben trovati con Baschettiamo, siamo ormai ai titoli di coda per quanto riguarda la Serie 1 che vedrà l'ultima giornata della Regola Arsigon, poi la Coppa Italia il 30 di marzo e poi inizieranno subito i play-off, quindi di questo ce ne parla Santino Coppa. Ad una giornata dal termine del massimo campionato di basket femminile, il 90% delle posizioni in griglia pre-off e play-out è ormai definita. Sassari, che ha creato non pochi grattacapi alla capolista Bologna, alla fine, pur avendo condotto per tre quarti di gara, paga un parziale negativo di 11-0 ad inizio dell'ultimo quarto. sconfitta da parte di Sassari, che non inficia assolutamente l'ottimo campionato fin qui disputato e che gli consente il raggiungimento di un prestigioso quarto posto in vista dei play-off. Bologna, ancora senza Doikic, da parte sua ha sofferto più del dovuto e solo l'ottima prestazione di Zandalasini e Parker gli ha evitato il peggio. Con questa vittoria, Bologna si conferma al primo posto che dovrebbe mantenere anche dopo l'ultima gara che la vede opposta a Brixia. Crema, Corsara, ancora una volta in quel di Faenza, c'è la matematica certezza dell'ottavo posto. Per la terribile matricola, un girone di ritorno a dir poco strepitoso, si concretizza con una insperata partecipazione ai play-off. Mi corre l'obbligo di complimentarmi sinceramente con Coach Piazza, il cui sapiente lavoro si è concretizzato strada facendo ed è riuscito a far rendere al massimo un gruppo che, pur privo di stelle, ma composto da buone giocatrici, pian piano sono cresciute in modo esponenziale e hanno raggiunto un risultato clamoroso per una matricola pensando poi come era partita questa matricola in campionato. Un'altra posizione che rimane da definire è il sesto-settimo posto che attualmente è detenuto rispettivamente da Campobasso al sesto posto a Ragusa al settimo. Un sesto posto importante perché evita di incontrare all'inizio una delle due squadre più forti, cioè Bologna e Scrio. Per confermare il sesto posto, Campobasso deve vincere a San Martino e quindi non preoccuparsi del risultato di Ragusa a Moncalieri. Così facendo è certo di mantenere i due punti di vantaggio su Ragusa. In caso contrario, Ragusa potrebbe vantare uno scarto canestri vantaggioso su Campobasso. Per finire, un grande in bocca al lupo a Schio che è vicino ad un risultato storico. Infatti, battendo Valencia mercoledì 22 marzo a casa propria, disputerà per la prima volta nella propria storia i play-off di Eurolega. Grazie e tutto. E mentre il basket si prepara nella fase finale alle varie situazioni dei play-off e play-out, noi intanto vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima giornata. Rapido. Grazie a tutti. Grazie a tutti.